Grazie a tutti, prima di invitare Sofia qua a parlarvi in prima persona del suo lavoro, io vorrei rubarvi due minuti per dirvi il perché per me quello che facciamo è una cosa importante. Io in realtà personalmente mi sono sempre molto più approcciata, un po' per un percorso di vita, un po' per la mia formazione, a un altro tipo di fotografia, che è la fotografia fotogiornalistica, la fotografia diciamo molto attaccata alla realtà delle cose. E quando ho visto questa puntata per la prima volta io mi sono commossa tantissimo, ho pianto senza spiegarmi il perché, e è molto bello poter essere a contatto con una cosa che non conoscevi e capire che ci sono dei linguaggi che magari spiegano delle cose di te che non sai. Cioè per me questa mancanza, questo non essere a casa mai, non essere completamente presente da nessuna parte, è una roba che mi porto addosso da dieci anni, che è quando sono arrivata in Italia ufficialmente per vivere qua. E sono cose che vivi e che non sai mettere a parole molte volte perché magari non c'hai gli strumenti, non c'hai il lessico o comunque il bagaglio per riuscire a spiegarti delle cose che magari senti, magari che non sai esattamente cosa siano. E secondo me c'è uno degli obiettivi, uno dei pregi dell'arte è che è un invito alla riflessione. E ti dà magari degli strumenti che prima non avevi per raccontarti cose del mondo ma anche cose di te stesso. E quindi per me è stato veramente un piacere vedere questa cosa e mi ha ricordato il perché sono fiera di far parte di un progetto come questo, che porta tantissimi linguaggi di diversi tipi, sia fotogiornalistico, artistico, insomma diversi linguaggi diversi che ci permettono comunque di accedere a delle parti di noi stessi che magari non sempre becchiamo, non sempre vediamo, non riusciamo a mettere a parole. E sono molto veramente soddisfatta e fiera di poter avere con noi degli artisti che ci danno tanto e quindi per me questa cosa importa e sono molto grata anche alla Biennale per questa possibilità. E dopo questo soliloquio invito Sofia a venire qua a raccontarci il suo lavoro. Sofia Uslenghi. Buongiorno a tutti. Va? Funziona? Funziona. Sì, sì. Tata. Tata. Ehm, soliloquio? No, posso anche partire io, non so se volevi magari dire qualcosa originalmente. Allora, io mi sono presa mille appunti, scusate, ma c'è il mio librettino qua. E la prima cosa in realtà che vorrei portare, settimana scorsa c'era qua Francesco Raganato, che è il, diciamo, direttore di questo regista, di questo bellissimo progetto, che ha la seconda stagione. Lui diceva che per questa stagione, scusate, specifico, cercava persone, cioè dove la fotografia e la loro vita fossero veramente sovrapposte. Cioè che fosse parte di quello che sono, fosse una spinta proprio da dentro a vivere la fotografia. E mi sembra che sia molto il caso di quello che ci racconti, perché sei partita da un dolore personale, diciamo in giovinezza, per cercare di capire te stessa, per cercare di capire il mondo attorno a te. E poi, cioè, si è tramutato comunque in un racconto della tua vita, con la tua famiglia, in diversi aspetti, anche col territorio. E' bello sta cosa perché il documentario, cioè, tu inizi dicendo, per parte con la fotografia e riflettere a ritroso, e quindi io vorrei ripartire dall'altro lato, no? Perché lui parte da tutti gli altri progetti più recenti fino all'inizio. Io vorrei riprendere l'inizio e partire da lì. E come, cioè, noi abbiamo fatto anche due chiacchiere prima, e per te la fotografia è proprio un linguaggio, cioè un modo di esprimere delle cose, non la fotografia a se stessa, ma tutto quello che c'è attorno, le sovrapposizioni, i lavori. Questa cosa con me, come nasce in te la scelta di usare altri strumenti al di fuori della macchina fotografica e come te la porti nel tempo? Allora, diciamo che la mia scoperta della fotografia è stata abbastanza casuale. Probabilmente io da ragazzina sentivo il bisogno di trovare un mio strumento, un mio mezzo, al momento non per dire qualcosa. All'epoca era un modo probabilmente di evadere da alcuni percorsi obbligati che si hanno quando si è ragazzina, per cui la scuola, la famiglia, tutto un linguaggio e un, non so, la scuola, cioè è una serie di cose imposte. Quindi l'autodeterminazione quando sei piccola un po' te la devi trovare. E io me la sono cercata in tutti i modi, alcuni molto fallimentari, per cui io quando ero a liceo facevo, che ne so, teatro, danza, teatro, danza, facevo qualsiasi cosa per cercare un qualcosa in cui io potessi essere liberamente me stessa senza seguire degli schemi che erano imposti. Casualmente è arrivata la fotografia nel senso che io ho iniziato a fotografare che avevo 17 anni ed era il momento in cui erano arrivate le reflex digitali, per cui la fotografia iniziava a essere alla portata assolutamente di tutti, era anche molto di moda, erano tutti fotografi, e io ovviamente mi sono inserita in quel canale lì. ed è stata l'unica cosa, davvero l'unica cosa su cui sono stata perseverante nella vita e che continuo ad accompagnarmi. E poi sì, come un po' racconto nel documentario, ho scoperto che era un oggetto silenzioso che non giudicava e con il quale io potevo iniziare a ragionare su me stessa. Ma anche lì è stato molto casuale. Come dicevi tu, la fotografia può essere un sacco di cose, la fotografia di base è uno strumento, è uno strumento, nel senso è una penna, è una padella, è un qualsiasi cosa che ti serve a creare qualcos'altro. Per me la fotografia, la macchina fotografica è un mezzo, non è un fine. Quindi ho iniziato semplicemente a sperimentare e poi mi sono accorta che effettivamente ero sempre stata molto attenta a tutto quello che si diceva di me, che dicevano i miei genitori, che diceva la scuola, che dicevano i miei amici. Ero completamente estordita da tutti questi giudizi e io non avevo la più pallida idea di chi ero ed è un percorso poi molto lungo scoprire chi sei davvero. E un po' la fotografia in questo mi è stato d'aiuto, nel senso che è un oggetto che ti guarda, che però non dice niente e al quale tu puoi affidare tutto quello che vorresti dire agli altri. Perché poi effettivamente quello che è il risultato è una fotografia che poi io facevo vedere, no? In qualche modo c'era già un pochino l'era dei social che non erano Instagram, non erano Facebook, però insomma c'era già la condivisione poi della propria immagine. E visto che mi sentivo così tanto, diciamo, un po' massacrata, però in generale molto giudicata, mi è servito per dare una visione di me agli altri, ma contemporaneamente probabilmente la prima a cui volevo dare una lettura era direttamente a me stessa. E quindi diciamo che l'autoritratto è partito per quello, è partito per la necessità di mettere un po' a fuoco me stessa agli altri e me stessa a me. Adesso fare in faccia aiuta anche. Se sveglia un attimo, tipo, grazie. E invece poi, cioè, in tutto il lavoro, in modi diversi, c'è molto, adesso più la deformazione dell'oggetto, no? Che è l'ultimo progetto, che magari ne parliamo dopo. Però questa, cioè la sovrapposizione la usi in modi diversi, cioè sia per sovrapporre che per staccare. Quella com'è entrata nei tuoi progetti? Cioè, come la vedi? Perché c'è tantissima gente che secondo me in modo un po', magari con una visione un po' più purista della fotografia, la vede molto come un oggetto a se stesso, no? E invece, quando tu dici che il ritratto finale, diciamo, con le mappe per esempio è molto più fedele a te stesso, anch'io la vedo come un'immagine più reale. Cioè, perché racconti, cioè vai oltre al racconto di quello che è soltanto magari te che passi. C'è una persona che ti passa per strada, cioè non è che la conosci perché la vedi, e lì invece è più profondo. Questa roba da dove viene? Come l'hai approcciata? Come c'è proprio tecnica di manipolazione che ti ha accompagnato in questo percorso? Ma diciamo che partendo dall'autoritratto la difficoltà è autoritrarsi e poi non sembrare autoreferenziale. Cioè, già che mi fotografo, ti faccio vedere la mia faccia, il mio corpo, e poi avevo bisogno di dire qualcosa di me. Nel senso che nella mia adolescenza, che un po' lo racconto, il rapporto con il mio corpo è stato molto complicato, proprio perché appartenevo a una categoria, cioè mi sembrava di appartenere a una categoria che non andava d'accordo con lo stereotipo di femminilità che veniva raccontato in continuazione. No, lo dico, sono... Quando ero al liceo la standard era la velina e all'epoca le veline andavano un sacco di moda, adesso un po' meno, non se le calcola molto più nessuno. Però all'epoca era proprio quello il riferimento ed era un tipo di fisicità che da me era lontana anni luce e io mi sentivo sempre a disagio col mio corpo e non solo col mio corpo, ma anche in generale con l'idea di femminilità, cioè l'appartenere alla stessa specie umana delle veline. Per me era una roba di... Cioè, eravamo due cose diverse. E quindi non mi sentivo nemmeno appartenere al genere femminile. Quindi, a parte aver puntato tutto sulla simpatia e su altre skills al liceo, quindi quella me l'ero messa da parte. Però poi non riconoscersi in niente è comunque complicato, per cui avevo bisogno di spiegarmi, di dire, ok, io non sono quel canone lì, non sono quello stereotipo lì, sono qualcos'altro. Cosa sono? Boh, vediamo. E nell'autoritrarmi, però, poi avevo bisogno di aggiungere degli elementi, perché sennò non aggiungevo niente di più quello che gli altri già vedevano. Quindi volevo raccontare il mio pensiero, la mia idea di femminilità, e anche il fatto che questo si allaccia un po' a quando nella puntata dico che per me la fotografia ha un suono. Tutte quelle voci, quei giudizi e quel chiasso mi sovrastavano e mi impaurivano e mi bloccavano. E quindi poi nelle fotografie quello che cercavo di metterci era la cosa più calma, serena, placida possibile. E quindi gli elementi naturali, aggiungere i fiori, le piante, magari usare il bianco e nero, mi sembrava restituisse più un'idea di una cosa molto tranquilla, molto serena, molto pacata, alla quale io mi sentivo molto più vicina rispetto alle cose super pop, che pure mi piacciono. Se penso alle fotografie, che ne so, di La Chapelle, le vedo chiassosissime e mi piacciono anche, però è una cosa diversa da me. Poi la sovrapposizione mi ha consentito anche di affrontare il tema del fatto di essere nata in un posto e non starci più e tutta una serie di questioni e quindi ho continuato a usare il metodo della sovrapposizione per raccontare delle cose di me. Poi a un certo punto al quinto progetto ho detto va bene, ok, l'abbiamo fatta, questa è fatta, bollino sul problema risolto, più o meno circa, e quindi poi sono diventati dei dittici proprio per la necessità di dire non ho più bisogno di essere un tutt'uno, sono un tutt'uno anche se la mia immagine è staccata fisicamente da quella del territorio, comunque rimane un dialogo, comunque sono due immagini che si parlano, però adesso è come se viaggiassero un po' in parallelo. Sempre su quello, parlando appunto di suoni, odori e la percezione di essere in un posto dove magari sei stretto, di cui parlavamo l'altra volta, ti volevo invitare a raccontare un po' da dove parte l'ultimo progetto e quello che ci racconta, cioè ne parlavamo un po' su da dove nasce anche da una sensazione di essere rinchiusi in se stessi in una zona nel non poter vivere perché tu parti da un territorio comunque molto ampio perché chiaramente molto molto parte di te. Mi sentite bene? Perché secondo me sto parlando. Beh, ci provo. Parti da un territorio molto ampio, cioè da un'esperienza anche molto, cioè se pensi all'Etna, a Milano, forse un po' una differenza di ritmi anche, quindi niente, non è una domanda ma ti vorrei invitare a raccontare quest'altra parte come nasce e come si sviluppa. Forse sì, è la cosa che spiego peggio nel documentario, ma tutto il progetto delle deformazioni nasce durante il Covid perché raccontavo a Natalia che è il mio più grande incubo prima del Covid. se mi avessero chiesto qual è il tuo incubo peggiore è essere rinchiusa in un carcere, non che qualcuno probabilmente così se lo sente come desiderio della vita. Però per me è sempre stata una necessità la libertà di prendere e andarmene in una situazione in cui non volevo stare, in un posto fisico. Infatti io, tipo, dico una cosa non popolarissima, ma ho qualche difficoltà a andare al cinema perché devi stare seduto e fermo per due ore. Quindi se i film durano più di due ore tendenzialmente mi riguardo a casa. Quindi il Covid per me è stato proprio un disastro. Il fatto di essere chiusi in uno spazio fisico in cui non mi potevo muovere, non ero libera di prendere e andarmene. E quindi anche lì la fotografia in qualche modo mi ha aiutato nel senso che la fotografia in quel caso aveva due funzioni. La prima che rispetto ad altre arti visive, ad esempio la pittura che è una tela bianca quindi non hai nessun, non hai la necessità di partire da un dato reale. Invece la fotografia ti aggancia a terra, comunque il primo scatto che fai è la realtà, è il momento in cui quella cosa è esattamente come è in quel preciso istante. quindi quella è un po' l'ancora che comunque è un'altra cosa che a me serve. Però poi il fatto di poterla modificare a mio piacimento significa esplorare mondi infiniti, cioè mi dà la possibilità di completamente scappare dalla realtà che è una mia necessità. E quindi la possibilità di deformare, di pitturare, di modificare il mio corpo in maniera palesemente distorta era molto era uno strumento che io sentivo molto utile per non sentirmi in una gabbia e poi ho un certo ovviamente innamoramento nei confronti del surrealismo cioè di quella ricerca di se stessi in maniera molto più onirica più esattamente cioè la realtà è una cosa che un po' sta stretta e quindi anche nei confronti di quello che dico alla fine cioè la mia difficoltà nel trovare un equilibrio tra Milano e Gerace che sono l'Etna che sono due cose completamente diverse io non so scegliere continuo a non saper scegliere quindi è quello che la realtà è una in quel momento lì tu decidi di stare a Milano e quella è la tua realtà non abbiamo il dono dell'ubiquità quindi c'è da farci conti e la fotografia per me è un un piccolo modo per evadere da questa realtà va bene e cambierei un attimo un argomento perché è un interesse personale in chiederti più sul progetto che hai fatto con gli scatti della tua famiglia e quello vorrei capire come è stato percepito anche da loro cioè per te che peso ha avuto nel riavvicinarti a quella che effettivamente sono la tua famiglia sono le tue radici però magari è ristaccata in modi diversi anche la sovrapposizione con la foto della nonna cioè dopo che è mancata immagino per quello che ci raccontavi è anche un modo di cioè rimettersi al centro di una realtà che comunque c'è perché rimane in te però che non c'è più e quindi non deve essere stato un percorso molto facile immagino in realtà è quello che condividiamo e che condividiamo in tanti il fatto che da un certo momento in poi dalla mia generazione più o meno in poi è facilissimo che le persone siano nate in un posto e poi si siano trasferite in un altro perché magari uno nasce in un posto X poi o la famiglia si trasferisce o vai a studiare fuori poi ti sposti per lavoro poi decidi di fare un'esperienza all'estero e perdi quella quel legame è preciso di una comunità cioè se io nasco in Calabria tanto quanto in Val d'Aosta o in Brasile se nasci cresci e continui a vivere in una comunità fai strettamente parte di quella comunità e ti vengono riconosciuti dei diritti che nemmeno ci fai caso io spesso dico se io quando torno a Gerace che sono quattro anime saranno 500 persone di cui metà parenti e comunque con una media di età sopra gli 85 anni la prima cosa ma poi questa ci fanno i meme per cui è abbastanza facile quando sei arrivata come sta mamma quando te ne vai mamma stai così poco il giro parenti dura tanto quanto la vacanza tra andata e ritorno però è una cosa che a me personalmente scalda molto il sapere di andare in piazza entrare dal macellaio che mi chiede ah ma quando sei arrivata quando te ne vai come sta mamma e c'è tutta sta trafila ogni volta che però mi fa sentire a casa in un qualche modo perché io non sono nessuno però questa persona sa chi sono mi riconosce sa chi è la mia famiglia se non hai soldi per pagare in quel momento posso non pagare se mi si rompe la macchina qualsiasi cosa c'hai la gente che ti aiuta perché sa chi sei e non perché tu sia per forza una persona come direi che ha che ha bisogno o che ha dei diritti ma semplicemente perché ti riconoscono e questa cosa nel momento in cui tu nasci e cresci in un posto la dai per assodata la dai per scontata e te ne rendi conto quando sei fuori quando sei fuori che non ti saluta nessuno per strada ti senti un po' solo ti senti un po' sperduto che è anche bellissimo perché non avere gli occhi puntati addosso e sentirsi così liberi è bellissimo però è sempre quella roba lì cioè che è difficile trovare un equilibrio tra il sentirsi protetti da una comunità e il sentirsi giudicati e sovrastati e e lo stesso nei confronti della mia famiglia nel senso che ormai della mia famiglia pochissimi stanno a Gerace se non i pluri ottantenni però dei miei tra della mia generazione siamo in una ventina e a Gerace stanno in due mia cugina quella che si vede all'inizio del documentario sua sorella fine e quindi si perde questo questo legame io quando mi sono rimessa dentro le fotografie mi ricordo che mia madre non era convintissima poi e i miei non sono mai stati grandissimi supporter nel senso era una cosa mia e così l'hanno lasciata un po' lì però mia madre ha pianto quando le ho regalato una foto in cui c'era lei mia nonna e io e ha detto ce l'ho fatta forse sono arrivata dove volevo arrivare e adesso effettivamente poi io mi rendo conto che per fortuna grazie Francesco e grazie Sky Art hanno fatto questo documentario perché poi in condizioni normali quando pubblico il mio lavoro non scrivo mai niente ma mezza didascalia per cui poi questo magari si spiega meglio quello che volevo dire però effettivamente quando hanno visto hanno visto la puntata la mia famiglia ha un po' capito il mio bisogno di accollarmi ecco molto bello grazie è anche il discorso che facevamo cioè per noi molte volte in molti contesti diversi cioè tu stai raccontando per me tutto il mondo è paese perché torno a casa ed è uguale cioè identico però è veramente cioè dal momento in cui ti esci quando vai al di fuori dal posto da dove appartieni che magari capisci di appartenere a quel posto là per tutti questi dettagli ci sei dentro è tutto estremamente naturale estremamente ci sei cresciuto dentro quella cosa lì è assolutamente trasparente ma infatti queste poi tra l'altro sono piccolissime cose nel senso che io sono mi sono trasferita in più posti ma comunque in Italia dove si parla la stessa lingua c'è le stesse leggi le stesse insomma con delle differenze ma è lo stesso posto e quando io penso a chi si muove alle migrazioni quelle serie di una persona che viene dal Senegal e si sposta in Finlandia penso quanto gli possa mancare al di là delle difficoltà molto più grandi di quello che racconto io socio politico economiche ma proprio la mancanza degli odori della famiglia del sentirsi in una in una comunità esatto in una comunità in cui viene riconosciuto in cui la tua voce vale qualcosa e invece ti ritrovi completamente da solo senza i punti di riferimento non tanto quelli ovviamente c'è una grossa fetta di cose importantissime io racconto invece quelle molto secondarie quelle fatte del riconoscere gli odori di casa i colori i fiori le piante tutte quelle cose che sono di contorno ma in realtà hanno un peso su di noi incredibilmente grande secondo me ma secondo me non sono secondarie perché ovviamente stiamo parlando di cose fisiche di sopravvivenza però c'è almeno nel gruppo diciamo di espatriati dove magari giro io ogni tanto c'è molta gente che torna torna anche se sta bene qua però appunto gli manca questa capacità questa sensazione di essere appartenenti cioè a qualcosa cioè essere parte di una comunità ma anche come dici te di un posto dove riconosci gli altri elementi cioè quella roba che dicevi che quando arrivi senti l'odore insomma giù per me è la stessa identica cosa quando vado quando torno cioè cambia l'odore proprio dall'aria e dici mo sono qui mo sono là ma è molto difficile staccarsi da queste cose ma è anche difficile nel senso fare il discorso opposto nel senso che io probabilmente adesso non rinuncio cioè difficilmente riuscirei a tornare a vivere in un paese così piccolo così scollegato dal resto nel senso che io la mia milanesità a giorni alterni me la vivo molto bene però è esattamente quello cioè il fatto che non esiste un'unione delle due cose sembra che si sia un po' sempre spaccati a metà tra il decidere dell'essere dall'altra parte del mondo felici di essere liberi di prendere e viaggiare cioè io faccio ancora fatica a individuare se il mio futuro sarà a levare capre sulla Spromonte o a New York o forse sarà un po' un po' Manto insomma ma io potrei andare avanti per ore perché come avete capito sta roba mi tocca profondamente però magari preferirei fare una conversazione più aperta e ci sarà sicuramente un minuto e mezzo di silenzio molto imbarazzante però vorrei invitarvi a fare delle domande a chiedere esprimere cosa pensate come la vedete approfittate che abbiamo Sofia qua ancora disponibile per un po' vai partito un minuto e mezzo sì adesso facciamo come va va il tempo ti è piaciuto il caffè dai non imbarazzatemi così tanto però vi prego cioè qualcosa Agnese tu vai Agnese chiedi qualcosa vai rompe il ghiaccio no vabbè io mi trovo abbastanza vicina su alcune cose sono nata a Firenze vivo a Firenze ma sento molto molto vicine e molto forti le mie origini siciliane e questa cosa degli odori la rivivo tantissimo ma tantissimo come torno a casa cioè a casa in Sicilia insomma quell'odore di carruva di terra bruciata mi è veramente il mio odore di casa ho fatto anche io diversi progetti proprio su su quello su ciò che mi manca di là sul vivere i miei nonni laggiù su tutte le cose accessorie che sono dicevi anche te no secondarie ma che poi in realtà sono un po' il sale il sale della vita no ciò che la rendono bella e e e quindi no niente mi rivedo molto te lo fai molto molto bene e e niente ti voglio solo fare complimenti grazie Aglio io ora ho rotto il ghiaccio la sta a voi adesso un minuto e mezzo è andato via forza immaginatevi di fare un anno senza tortelli di zucca eh io sono allergica non li posso notare quindi sono come un'altra siamo ancora dentro il minuto e mezzo forse sì vediamo anche l'affermazione sì cioè non so raccontate le vostre storie i vostri progetti cosa vi pare ecco un minuto e mezzo perfetto ci siamo funziona sì mi ha colpito nelle tue fotografie questa vabbè la mimesi con il paesaggio con la natura è è molto bella è fatta molto bene secondo me e però ecco tu non ti dissolvi dentro questa natura ma spicca molto forte la personalità nonostante tutto ma però non dà fastidio cioè nel senso come stavi dicendo tu non c'è un effetto come dire un effetto ovelina o o meglio anche un po' meglio però non trovo rimane questa come dire armonizzazione mimesi però nonostante tutto viene fuori questa adesso sì secondo me la personalità poi non so però c'è e poi vabbè il punto forse che rimane abbastanza costante sono lo sguardo anche se il resto cambia molto ecco in realtà a un certo punto io dico che che una volta fatte le fotografie e sovrapposte diventano un po' distaccate da me cioè che io faccio non che non mi riconosca però diventano un'altra cosa e mi capita un sacco di volte che le persone mi dicano cioè magari hanno visto prima le fotografie e prima vedono me e mi dicono ah ma nelle fotografie sei molto più più forte è che è vero nel senso che io mi rendo conto che per quell'istante lì ha una sicurezza che poi in condizioni normali non ho e quindi quando mi rivedo trovo il distacco perché perché sì effettivamente c'è un'intenzione un piglio che in condizioni normali cioè nella vita vissuta non è così così forte però è quello che nella fotografia riesco a fermarmi solo in quel frangente cioè molto più facilmente in quel frangente lì però mi rendo conto sì scusa questo ti da cioè ti serve ti da ah sì sì nel senso che esattamente credo il motivo per cui mi sono messa a fare autoritratti cioè devo trovarmi uno spazio che è ristretto che dura un secondo che è un'immagine in cui io mi fermo nel momento in cui sono convinta poi ritorno a non essere convinta assolutamente di niente però becco quell'istante in cui voglio esprimere quella convinzione e poi riguardandole però sì c'è un un gradino in più che io ancora cioè sto cercando di raggiungere di di affermazione di convinzione di quello che sto dicendo poi lo rimetto sempre in discussione e ricomincio da capo credo io non so adesso c'è comunque un filo conduttore almeno visivamente per come si esprimono si sente cioè non è una cosa cioè adesso tu lo stai dicendo come se certo nelle fotografie anche così a caso magari ci mettiamo un attimo di convinzione ma questa è un po' di più sì c'è un discorso dietro si sente c'è un filo sì l'altra cosa è che ad esempio io non riesco mai a lavorare con la progettualità che in teoria è dei fotografi cioè io mi ricordo una uso il termine cazziata micidiale di un di un curatore belga a una lettura porfolio io gli avevo fatto vedere delle mie immagini e lui si era arrabbiato tantissimo mi aveva fatto uno schemino che adesso è ancora a casa appeso in cui faceva tutta una serie di cerchi concentrici calcando dalla rabbia in cui diceva ecco tu devi avere un'idea poi devi avere un progetto poi devi avere una storia e poi lo realizzi io non faccio cioè nel senso mi rendo conto che invece io non lo faccio anche ad esempio nella nelle fotografie che poi è la ripetizione in ogni progetto è una ripetizione pedissequa della stessa questione io mi ricordo ad esempio quando ho iniziato il progetto su mia nonna non avevo l'intenzione di renderlo seriale e non avevo nemmeno idea del benissimo del perché lo stessi facendo cioè a fine a quel momento lì mia nonna era una persona della mia famiglia in un qualche modo in quel progetto poi l'ho idealizzata nel senso che continuando a lavorarci continuando a ripetere questo meccanismo di inserirmi dentro le immagini il risultato è stato che alla fine del progetto mi sono resa conto di aver idealizzato mia nonna che io ho conosciuto fino a quando avevo lei è morta che io avevo 12 anni per cui ho una conoscenza infantile di una persona e dall'altra parte che avevo la necessità di sentirmi in una famiglia perché quando ce ne siamo andati la mia famiglia dall'essere 30 persone è diventata 4 io, mia sorella mia mamma e mio papà e l'ho capito dopo il perché e quindi si, faccio un percorso che è inverso rispetto alla progettualità come uno ti scopri attraverso la fotografia esatto questo lo trovo molto bello e anche femminile come cosa approccio secondo me poi si, trovo faccio solo affermazioni però prego che sia interessante anche questa sovrapposizione fra piani temporali diversi nelle foto con la tua famiglia e dove però non è che emerga per esempio una figura rispetto a un'altra di più ma convergono e tu sei sempre presente questo lo trovo molto interessante non so se avvenga per caso però comunque sembra che ci sia di unirsi in maniera cioè di diventare un'unica cosa cioè si vedono che sono piani diversi layer diversi però per me l'importante è che poi alla fine fosse quell'unione affettuosa nei confronti delle persone della mia famiglia quelle a cui voglio bene grazie molto bello grazie quindi chiederti tipo cosa fai domani non si può è una domanda che da che punto di vista no nel senso vuoi uscire no cioè appunto non hai un progetto ongoing o si no no anzi però ancora abbastanza nel buio e adesso sto mettendo in discussione ad esempio il mio stare a Milano però ormai che faccio da ping pong da 38 anni a questo punto ho deciso che va avanti così e quindi forse probabilmente devo fare a un certo punto non so un pezzo di vita velocissimo poi rallentare e quindi adesso farò il contrario probabilmente inizierò a rallentare e però non lo so sono in assoluto ascolto di quello che succede e del in che modo in che fotografie probabilmente diventerà però è è una bellissima risposta me ne rendo conto io ti faccio un'altra domanda e poi credo che ti lascio fare le tue cose che iniziamo qua con la nell'era contemporanea però nell'era contemporanea non abbiamo tutta questa tu parlavi prima della velocità dello sguardo che è associata al camminare nei luoghi e guardarli e vederli con calma cioè fai più fatica adesso che sei in un posto comunque ti richiede veramente una velocità molto più costante un influsso di immagini da ovunque tutto il tempo questa cosa interferisce in come te cioè vivi diciamo l'arte visiva intendi stare a Milano in generale sì sì allora penso che effettivamente i momenti di noia siano assolutamente necessari per riuscire a fermarsi a riflettere sulle cose e a elaborarle e io ho deciso di trasferirmi a Milano cinque anni fa adesso non farò un'anti promozione di Milano però ho deciso di trasferirmi a Milano cinque anni fa proprio perché ero allettatissima dagli stimoli dal nutrirmi di mostre arte eventi musei cioè ho passato a parte il fatto che mi sono trasferita a novembre del 2019 quindi dopo due mesi così però appena hanno riaperto mi sono fatta chilometri dentro tutti i musei possibili abbonamenti proprio tutto avevo proprio bisogno di nutrirmi di quella di quelle opportunità lì però dall'altra parte è difficilissimo annoiarsi a Milano e e credo cioè adesso sento di avere quel bisogno lì ed è quella cosa dell'andare a piedi metaforicamente cioè di riuscire a osservare le cose che ti succedono che ti succedono intorno che ti succedono dentro in maniera con quella calma necessaria per avere il tempo poi di elaborarle e di macinarle e farle diventare qualcosa quindi sì ho bisogno di annoiarmi adesso ci sono altre domande? allora io ti ringrazio grazie mille di essere venuta di essere stata con noi vi ricordo appunto che oggi se vi può interessare alle due e mezza ci sarà Laura Facchini che parla di Women Visual Artist Database parla del suo progetto di artiste visive in questo database molto interessante e anche alle quattro e mezza c'è sarà BFF Thanos che è un progetto in cui Anna Volpi parlerà della morte nella fotografia che è anche molto bello tutti gratuiti e ogni sabato alle dieci e mezzo alle undici ci trovate qua con un'altra puntata di Sky Art grazie grazie